Nel comune costiero di Giulianova tutti contro il regolamento antirumore soprattutto in vista dell'estate, previste dal commissario prefettizio Soldà. Oggi una delegazione di balneari e albergatori avrebbero voluto incontrare il commissario in comune per discutere sulla revoca dell'ordinanza che ha scosso gli operatori della costa, ma l'incontro non c'è stato. Da palazzo era filtrato il nuovo regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose e per la tutela dell'inquinamento acustico, con numerose nomità riguardanti chi fa musica e intrattenimento. In regime ordinario le ocari potranno fare musica e intrattenimento fino alle ore 20. Qualora si volesse proseguire dopo cena si potrà chiedere una deroga, mediante la presentazione di modelli predisposti dagli uffici comunali in bollo, quindi con aggravi rispese, per ottenere un allungamento dell'orario fino al massimo a luna di notte. Nel breve tempo che l'abbiamo potuta leggere abbiamo rilevato diverse criticità e diverse problematiche relative proprio all'attività turistica, specialmente quella rivolta alla fascia di turismo un po' più giovane, quella che vuole ascoltare la musica, quella che vuole intrattenimento, e quindi abbiamo sottolineato sia agli uffici che al commissario queste criticità. Non abbiamo ritenuto utile promuovere un regolamento del genere a 4-5 giorni nelle elezioni, dato che comunque sono regolamenti che vanno condivisi quantomeno con le associazioni di categoria e con le attività economiche del territorio. Questa attività di consultazione non c'è stata, pertanto riteniamo che questa procedura sia sicuramente corretta da un punto di vista giuridico-amministrativo, ma inopportuna. Voi avevate chiesto un incontro per la giornata di oggi, incontro che però non ci sarà? In realtà sì, a furor di popolo c'era questa volontà di parlare e di aprirsi con il commissario e manifestare queste lamentele. Questo incontro non ci sarà, ci auguriamo che il commissario, di cui abbiamo la massima e totale fiducia, prenda atto di questa inopportunità e tracca le conseguenze in merito al nuovo regolamento.